A 13 anni di distanza dalla prima conferenza governativa sull'Amianto del 1999, il Ministro della Salute, Renato Balduzzi, parla in vista della seconda conferenza che si aprirà domani a Venezia. Faremo un bilancio di ciò che si è fatto in questi anni e individueremo le linee per un piano sulle bonifiche, sulla presa in carico degli ex esposti e sui problemi legati alle normative connesse all'assicurazione degli infortuni sul lavoro. E il Ministro interviene anche sul problema della ricerca. Per molte malattie correlate all'Amianto, nonostante gli sforzi della ricerca, non siamo ancora arrivati a soluzioni che diano speranza agli ammalati. Dobbiamo fare di più. Purtroppo, infatti, il lungo periodo di latitanza che precede il loro manifestarsi rende ancora più difficile questa battaglia. Un arco temporale, fa sapere Balduzzi, che fa tendere il picco delle manifestazioni delle patologie intorno al 2020. La conferenza assicura poi il Ministro, affronterà tutti i temi, anche quello legato al risarcimento delle vittime.